Questa è una mola di rilio ad acqua. Dove sta facendo? Sto raddrizzando il coltello che era la mira di rilio. Ora? Adesso bisogna fare una lucidatura del coltello. Si toglie tutte le spavature e le imperfezioni che si possono creare. La rifinitura. Poi c'è la pietra. Vedete che c'è una pavetta? Si. Si vede? E viene via. Si. 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 Si.